che ha mandato Jarosy al tiro, è stata provvidenziale la deviazione di Buffon vicinissima la Repubblica cerca il gol ancora Buffon, una volta il gol c'è ed è realizzato proprio da Schmitzer si colpevolissimo l'atteggiamento della nostra difesa che non è riuscita a contrapporsi su un angolo che non mi sembrava talmente ben battuto da crearci imbarazzo invece Schmitzer si è trovato davanti alla porta ecco che rivediamo intanto Jan Kulowski, parabola anche abbastanza alta e Schmitzer ha l'opportunità di andare a colpire di testa senza adeguato disturbo da parte dei difensori c'è stato un atteggiamento colpevolissimo nella nostra retroguardia non si può far colpire un giocatore neanche altissimo a 7 metri dalla porta senza contrastarlo adeguatamente